Guardate, tra le tante cose che in questo momento mi riponano dentro, io voglio dirve ne mostro semplicemente soltanto due, ma due delle quali credo e credo profondamente, ma credo che appunto la mia voce non dimostri questa forza di condizione che mi assicuro però c'è più in tutto. La prima cosa, Giulio e Valeria hanno detto che questa di oggi e quella di domani sono giornate di gioia e io credo profondamente che lo siano e mi assicuro per chi come noi cerca di governare, vi ricordo anche ai consiglieri comunali presenti, vi ringrazio, una città tanto piena di problemi in una realtà anche appunto politica così difficile, giornate di gioia ce ne sono pochissime. Quindi la prima cosa che mi viene da darvi con simpatia, con amicizia verso tutti, ci sono alcune persone che io conosco e con le quali lavoro da anni, ce ne sono altre, dico il presidente che ho appena conosciuto, con i quali abbiamo subito trovato una consonanza di lavoro, voglio dirvi grazie perché quello che insieme domani cercheremo di offrire non soltanto alla comunità che è in ma alla città, mi spero attraverso i media, anch'io che appello ai media, non so di come diceva, per piacere leggetelo con attenzione, leggetelo con interesse, cercate di andare, quello dicevi te, cercate di andare al punto del messaggio, non prendetelo per qualcosa di superficiale e di più o meno appunto qualche volta sembra anche che si prenda sul serio un disagio, quello che cerchiamo di offrire e passo alla seconda cosa che vorrei dirvi, è un atto di orgoglio, per me è una giornata di orgoglio, orgoglio perché? È stato ricordato appunto Comigliano d'Arco, Nicola giustamente ricordava che ci sono migliaia di Comigliano d'Arco in giro in giro per il mondo, in giro per l'Italia, in giro per la campagna e in giro anche per Napoli, ma se noi guardiamo tutto il contesto nel quale viviamo, vediamo che ci sono dei disfaruti che vengono avanti terribilmente, qui il rispetto della persona romana e il rispetto dei suoi diritti a cominciare dal diritto alla propria volontà di essere sessualmente come sia, il diritto al lavoro sembra che non esista più. C'è appunto la ricerca di una contrapposizione, il nord contro il sud, le zone ricche contro le zone povere, gli immigrati contro italiani, c'è appunto una compressione, pensate alla legge sulla stampa, la legge pavaglio, della libertà di espressione e quando si comprive la libertà di espressione amici miei, si comprive la libertà di parola e quando si comprive la libertà di parola si comprive la libertà di pensiero perché pensiero formulato vuole essere espresso e piano piano in modo quasi dolore si trasforma la democrazia, la democrazia come la vuole la nostra Costituzione, una democrazia viva, partecipata, solidale, pacifica, la si trasforma in una specie di legge. di fronte a questo, vedete io ho detto varie volte che è vero, io ho vissuto a Roma il periodo il periodo forte del terrorismo, io ho più paura adesso che il periodo del terrorismo perché l'uccisione, la violenza suscita a un certo punto reazione e io mi ricordo per esempio l'università intorno al cadavere di partire, mi ricordo via Caetano e poi intorno al cadavere di loro, la gente ognuno protestava come voleva, che altava il bugio, che si faceva il segno della noce, che piangeva, che urlava, ma la gente protesta quando la violenza è visibile, il rischio è che contro la violenza invisibile, che contro lo svuotamento dei diritti, che contro l'impoverimento della solidarietà, la gente non protesti perché non se ne accorre, non se ne accorre. E allora noi domani vogliamo lanciare una protesta, però una protesta forte che è anche un atto di orgoglio, perché è non solo l'orgoglio che è l'orgoglio delle lesbiche, l'orgoglio dei trans, ma è l'orgoglio dei cittadini italiani che credono nella Costituzione e che appunto